Amici, bentornati a tutti a questa nuova puntata del Mettilo Dentro. Siamo già in clima natalizio, lo so, i pensieri stanno altrove, ma mancano altre due belle giornate prima delle festività. Pertanto, che ne dite se cominciamo con i consigli di Paolina per questo sedicesimo e sedicente turno di campionato! E cominciamo con il portiere, allora è Donnarumma per me, il Milan si sta riprendendo dopo queste due vittorie in casa contro il Sassuolo. La partita è abbastanza semplice, speriamo che il Milan continui questa striscia di vittorie. Essendo contro il Sassuolo nulla è semplice, ci mancherebbe, però potrebbe pure non prendere un gol. Quindi in questo caso Donnarumma è un po' una prevenzione, mettilo dentro per prevenzione, perché potrebbe proteggerci da gol indesiderati. E continuiamo invece con la difesa. Allora, cominciamo con Criscito. Criscito va messo dentro, perché stiamo parlando del derby della Lanterna, è un capitano, ha segnato in Coppa Italia nell'ultima di campionato. Un capitano in un derby non può non essere messo dentro. E continuiamo con Manolas, bene, uno del Napoli. Allora, cambio di guida per il mio Napoli, per cui speriamo in cambiamenti positivi, insomma. Allora, Manolas dovrebbe essere innanzitutto assolutamente titolare, perché non è che abbiamo molte risorse lì, là dietro in difesa. Per cui, Koulibaly e Manolas dovrebbero giocare titolari. Inoltre, lui ci può sganciare qualche bonus, una bella soluzione con i calci di punizione. Manolas, mettilo dentro. E continuiamo con DeLite. DeLite, per la stessa motivazione di Manolas. Potrebbe essere una buona risorsa per qualche bonus, calci di punizione, gol su calci di punizione. Ma soprattutto potrebbe fare una bella prestazione. Anche perché il ragazzino non è stato neanche convocato in Champions League contro il Leverkusen. Quindi penso che sia voglioso, insomma, di giocare, che sia voglioso di fare una bella prestazione. Poi è giovane, questo secondo me c'ha sempre voglia. Continuiamo con il centrocampo. Allora, Pasalic. Allora, Pasalic non puoi non metterlo dentro. È veramente un bel trascinatore fondamentale per questa Atalanta che sta facendo così bene in Champions League. Ha superato il girone agli ottavi di finale. È una Atalanta veramente euforica. Quindi Pasalic, che ha segnato sia in Champions League che in campionato, veramente va messo dentro senza ne A e ne O. Ok? Allora, Castrovilli. Castrovilli sicuramente è una fiorentina che non sta vivendo il suo best moment. Ha bisogno di punticini, assolutamente. Però, dobbiamo dire che Castrovilli l'ho messo a sentimento perché l'ultima volta che l'ho messo dentro mi ha dato parecchie soddisfazioni. E io sono solita a replicare le cose che mi hanno fatto godere. Castrovilli va messo dentro anche perché, secondo me, ci può replicare la gioia dell'ultima volta. Gioca contro l'Inter che è la capolista in questo momento, per cui potrebbe essere galvanizzato dal fare un'ottima prestazione. Mettilo dentro. E continuiamo con Tonali. Allora, la partita è Brescia-Lecce. Sono le due neopromosse. Tonali è veramente, secondo me, un bravissimo calciatore. A livello realizzativo forse potrebbe fare di più, però lui, d'altronde, è un centrocampista difensivo, per cui ci sta tutto. Secondo me ci può scappare il bonus Tonali, mettilo dentro. Ultimo a centrocampo, Ramirez. Allora, io ci tenevo a mettere uno del Genoa e uno della Samp, perché è un derby. Il derby della Lanterna è un derby, è sempre un derby, va onorato. Ramirez gioca come trequartista, lui dai calci da fermo potrebbe essere un'ottima soluzione, tira un po' tutto lui, punizione, calci ad angolo. Quindi io, Ramirez, lo metterei assolutamente dentro. E continuiamo con l'attacco. Questo attacco è un attacco forte, è un attacco bomba, è un attacco top. Voi sapete che io di solito non faccio delle formazioni banali, quindi io i top player non li metto, però in questo momento a chiusura, prima della pausa natelizia, io non so precisamente come si mettono le cose. La stanchezza è tanta con le coppe, eccetera. Per cui l'attacco va messo forte, perché se ci deve uscire qualche punticino deve venire proprio da qua. Se qualcosa non va bene da questa parte qui della formazione, qui invece bisogna stare un po' più certi, un po' più sicuri. Per cui io comincerei con questi due nove in area di rigore. Dzeko, innanzitutto, che ha segnato in Europa League, è veramente un ragazzo che sa giocare oltre, che è benissimo, è un ragazzo serio, è affidabile. Per cui io spero che segni, francamente. La partita è comunque contro la spalla, dovrebbe essere abbordabile, la spalla è ultima in classifica. Dzeko, mettilo dentro. E metti dentro assolutamente pure Piontek. Speriamo, l'ho già detto, che il Milan continui questa striscia di vittorie. Se continua questa striscia di vittorie, il merito può essere anche di Piontek, che si è sbloccato, anche se comunque momentaneamente col calcio di rigore. Piontek però è una risorsa sempre valida, mettilo dentro. E per finire io direi Insigne. Allora, Insigne, io ero un po' in dubbio, se mettere Insigne o Milik. Cambio di guida per questo Napoli, benvenuto Ringhio. Quindi stiamo con il 433, ciao ciao, per fortuna, almeno per quanto mi riguarda, al 442 di Ancelotti. Quindi Insigne torna nella sua posizione favorevole, ovvero quello di esterno, sinistro di attacco. Insigne, mettilo dentro e speriamoci regali finalmente qualche gioia, forza Napoli sempre. Ma a parte questo vi regalo anche le sostituzioni. Io comincerei con Paolo Lopez, della Roma, che gioca contro la SPAL. E poi Conti, invece Milano Sassuolo, poi lui è un terzino destro, può essere funzionale. Amrabat, che di solito fa sempre buoni voti, insomma è abbastanza affidabile. E infine Milik, proprio perché ero in confusione, insomma in dubbio con Insigne. Se c'hai Milik, mettilo dentro, assolutamente, dovrebbe essere titolare. Se c'hai Insigne, metti Insigne. Se c'hai Milik, metti Milik. Io ho detto tutto ragazzacci, vi amo tanto. Ci vediamo la prossima puntata del Mettilo Dentro. Ciao!